La Polizia di Stato di Napoli questa mattina ha eseguito 8 mandati di arresto europeo nei confronti di altrettanti soggetti di origine partenopea ritenuti responsabili di diversi episodi di rapina di orologi di lusso perpetrati in diversi stati europei. Complessivamente sono 35 soggetti arrestati negli ultimi mesi nell'ambito di questa operazione internazionale volta al contrasto del fenomeno delle rapine degli orologi di lusso coordinata da Europol. In particolare è stato riscontrato che gli episodi delittuosi erano stati commessi in gran parte nelle principali località turistiche della Spagna, anche se un rilevante numero di questi reati erano avvenuti anche in altre importanti città di Francia, Austria, Germania, Spagna e Svizzera. Il modo superante era tanto semplice quanto efficace. Le cosiddette paranza erano costituite mediamente dalle 3 alle 5 persone con compiti ben definiti. Un soggetto individuava la vittima che indossava un orologio prezioso, i ristoranti di lusso o alberghi di alta categoria, dopodiché veniva perdinata da un complice, in attesa del momento propizio per l'azione delittuosa. Quindi uno o due componenti del gruppo aggredivano con violenza e malcapitato, strappandogli l'orologio dal polso, spesso cagionandogli anche lesioni dagli atti superiori, per poi guadagnarsi la fuga a bordo di moto condotte da un complice, facendo perdere le proprie tracce. L'aumento quasi esponenziale del prezzo degli orologi di lusso negli ultimi anni ha incentivato gli indagati a commettere un numero sempre maggiore di rapine. Alcuni orologi rari hanno infatti un prezzo di mercato che supera di gran lunga quelli di distino. Questo tipo di delitti finora indagati solo a livello locale, con questa attività sono stati invece oggetto di scambio informativo tra Europol e le forze di polizia degli stati interessati e conseguentemente di investigazione coordinata. Dopo aver condiviso gli esiti delle attività di indagini in specifiche riunioni operative, gli stati coinvolti hanno emesso i mandati d'arresto europeo che hanno consentito di arrestare gli indagati. Questa mattina gli ultimi otto soggetti residenti a Napoli sono stati arrestati dalla squadra mobile di Napoli. Grazie. Grazie.